Crypto tab browser è pericolosissimo e se lo stai usando ho intenzione di iniziare a usarlo credo che faresti meglio ad ascoltare quello che ho da dirti oggi. In questo video ti racconto quello che non ti racconta nessuno su quest'app. Ne parlan tutti molto bene, dicono che paga, che si guadagna. Ok è vero paga, non è il classico schema Ponzi dove tu devi mettere dei soldi e rischi di perderli. In questo caso il modello è diverso ma ugualmente rischioso. E gli unici che ci guadagnano sono proprio coloro che lo promuovono perché di fatto lui offre 10 livelli di affiliazione. Pensate, io do il mio referral link a lui che entra, che invita l'altro, che invita l'altro, che invita l'altro il tutto 10 volte e io guadagno su tutti questi 10 che sono entrati sotto a questa mia piramide. Quindi pensate il potenziale guadagno per chi spaccia il suo referral link a quanto può ammontare. Vi ho appena detto, non è un Ponzi, ma allora come mai vi sto dicendo che è rischioso, che è pericoloso? Perché il modello su cui si basa fa acqua da tutte le parti e soprattutto espone il proprio pc e l'hardware sul quale si scarica ha delle vulnerabilità pazzesche perché si tratta di un software non verificato che potrebbe fare tutto l'immaginabile con i nostri dati e con le nostre macchine. Però andiamo per ordine. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Che cos'è CryptoTab Browser innanzitutto? È un browser, come dice la parola stessa, leggermente modificato. È un clone di Chrome, parte da Chromium come base che è il framework open source su cui appunto è costruito Chrome. Vengono preinstallate alcune estensioni e alcune applicazioni al fine di dargli la sua caratteristica unica che è quella, mentre navigate sul web, di minare in background Bitcoin, o almeno così dice. Già questo a me convince molto molto poco. Ecco, pertanto il suo slogan è bellissimo, ovvero tu navighi su internet e nel mentre guadagni. Cosa c'è di più bello al mondo? Probabilmente niente. Però, guarda caso, non è assolutamente vero. O meglio, gli unici che guadagnano sono coloro che vanno a dare in giro i referral perché tu, da utilizzatore semplice, non ci guadagneresti mai nulla. E adesso ti spiego il perché. Il primo punto che fa ombra sul CryptoTab Browser verte proprio su questo. Chi conosce l'industria del mining saprà già di cosa sto parlando, ovvero del fatto che Bitcoin non è minabile utilizzando una CPU o una GPU, utilizzando hardware di un PC. Si poteva fare tantissimo tempo fa, quando non esistevano ancora sul mercato i cosiddetti ASIC, che sono dei chip, delle macchine fatte apposta per concentrare tutti i loro sforzi nel mining di Bitcoin. Sono delle macchine estremamente efficienti che erogano un hash power incredibile. L'hash power è la potenza computazionale erogata e utilizzata nel mining di Bitcoin. E pensate che la loro è di diversi ordini di grandezza superiore a quella di un PC. Voi sul vostro PC, quando installate CryptoTab, c'è una dashboard che vi fa vedere quanto hash rate voi state generando. E se voi lo andate a confrontare con l'hash rate di un ASIC o di strumentazione comunque professionale, capite molto bene che non c'è nemmeno una briciola. Quindi non è possibile anche immaginare di generare nemmeno una minima frazione di un Satoshi. Ok? Quindi non mina Bitcoin. Questo è un dato di fatto. E allora che cosa fa? Il male minore che potrebbe fare è minare Monero. Monero è una delle poche crypto che attualmente ha senso minare con la propria CPU o GPU, con il proprio hardware del PC. Ok? Ha senso ma a patto che lo si faccia con cognizione. Cosa vuol dire? Il mining amatoriale non esiste, è morto già da tempo. Quindi se io decido di attaccare alla presa della mia cameretta il mio PC, il mio cellulare o anche il mio ASIC, se voglio acquistare un ASIC per minare Bitcoin, non andrò mai e poi mai in profitto. Perché? Perché spendo di più di corrente rispetto al ricavo ottenuto dal mining stesso. Semplificando in maniera estrema l'equazione costi e ricavi del mining si arriva proprio a questo. Il costo è la corrente elettrica, il ricavo è il profitto dalle crypto estratte create. Ok? Pertanto ha senso questa equazione se si va a ridurre i costi, quindi lo si fa in maniera industriale, lo si fa con dei contratti di energia specifici a basso costo, ha senso se lo si fa utilizzando l'energia nucleare che costa meno, se si hanno degli impianti autosostenibili come i pannelli solari, ma altrimenti se fatto in maniera amatoriale, una cosa è certa, la perdita. Ok? E pensate anche a questa cosa, cioè voi state minando, tra virgolette, in maniera amatoriale monero, perché ci stiamo immaginando questo scenario, utilizzando il vostro PC attaccato quindi alla corrente di casa vostra e quello che generate viene utilizzato in parte per pagare questi dieci livelli di referral di qualcun altro, ok? Per pagare questo network. E quindi, cioè, secondo voi, come si può anche solo immaginare che sia profittevole una cosa di questo tipo? Fate questo semplice esperimento, che state tranquilli, nessuno dei video che vi dicono guarda quanto ho guadagnato in una settimana fa. Provate a vedere a fine mese a quanto ammonta la bolletta, sempre se la pagate voi, e fate la differenza con il prezzo medio, tenendo acceso un PC, un cellulare, un qualsiasi cosa che mina con CryptoTab. Confrontatelo col ricavo, di fatto, di CryptoTab e vi rendete subito conto, secondo me, che è il caso di lasciar perdere. Questo ovviamente se non avete questa catena infinita di referral, perché se voi iniziate a invitare a spammarlo a cento, mille persone, allora sì che fate dei gran soldoni, quello indubbiamente, però allora che non mi si venga a dire guarda quanto ho guadagnato facendo mining, perché non hai fatto mining, hai spammato il tuo referral facendo credere a qualcun altro di poter guadagnare facendo mining, che è una pratica ingannevole. Il secondo punto, che è il punto più importante in assoluto, riguarda la sicurezza. Caspita, noi stiamo scaricando un browser non verificato, lo stiamo installando sul nostro PC, gli garantiamo accesso al nostro PC, può fare quello che vuole con il nostro PC, e in cambio di cosa, di pochi spiccioli o di una perdita addirittura, visto che col costo dell'elettricità non è neanche profittevole, pensiamoci meglio, cioè il browser viene utilizzato per fare qualsiasi cosa al giorno d'oggi. Noi lo usiamo per navigare sul web, per fare acquisti, per entrare sui nostri profili social, magari ha accesso alla nostra posizione, legge il nostro indirizzo IP, ha tantissimi dati sul nostro conto. E voi mi state dicendo che vale la pena esporre questi dati a un'applicazione che non si sa chi l'ha fatta, non si sa cosa ne fa di questi dati, per minare Bitcoin, che in realtà ve l'ho detto, meno peggio mina monero, e peggio ancora, non c'è limite alla mala fede, chissà cosa potrebbe fare con quella hash power, magari potrebbe provare a fare degli attacchi brute forcing, degli hack da qualche parte, non lo si sa, non c'è limite al peggio, io non voglio fare il complottista perché non è da me, però lascio alla vostra fantasia immaginare che cosa può essere fatto con il vostro hardware. Tornando a noi, andare a utilizzare un browser non verificato per la propria navigazione quotidiana è pura follia. Io mi auguro che chi di voi mi segue ed è nel mondo cripto e conosce le pratiche di sicurezza, perché criptovalute e sicurezza vanno a braccetto. Noi dobbiamo essere responsabili della conservazione, della gestione, dello stoccaggio delle nostre cripto. E io mi auguro davvero, se lo fate, non so più cosa dirvi, che nessuno di voi utilizzi del software non verificato, soprattutto per andare a inserire dati sensibili. È la cosa peggiore che mi posso immaginare. Qualcuno può dire, ok, vabbè, ma io tanto ho un pc apposta che è lì fermo, ci installo CryptoTab, lo faccio minare e ci guadagno qualcosa, non rischio questa cosa qui, perché non ho dati sensibili, non lo uso per navigare. Ok, in questo caso ci può stare, però vale comunque il discorso di prima, cioè il discorso che tu di fatto stai consumando più energia di quello che guadagni e inoltre stai utilizzando la tua energia anche per pagare eventualmente tutto il resto del network. A questo punto, per fare questo mining amatoriale fai da te, che comunque non conviene lo stesso, è meglio usare dei servizi come NiceHash, che permette di utilizzare il proprio hash power per minare senza tutto questo referral a 500 livelli e effettivamente fa quello, perché NiceHash è un leader nel settore ed è più che conosciuto, al contrario di CryptoTab, che è molto shady, come si suol dire. Infine vi rovina l'hardware, nel senso, ok, anche qua può non fregarvene niente se è un dispositivo dedicato a quello che avreste buttato via, però se lo utilizzate sul vostro PC, oltre a esporvi a quell'enorme falla di sicurezza, che è il problema principale, a quello è il rischio più grosso in assoluto, voi vi state esponendo, cioè voi vi state rovinando l'hardware, ovvero l'hardware si surriscalda, viene spremuto molto di più e se non si ha comunque un sistema di ventilazione, di raffreddamento, che permette di gestire una situazione di costante sul riscaldamento, allora voi state di fatto danneggiando il vostro PC e questo vi va ad accorciare la vita utile del PC e va nella parte dei costi, nel mining industriale la vita utile dei device che fanno mining, che proprio perché utilizzano così tanta energia, di solito si usurano molto in fretta, fa parte delle voci dei costi nel bilancio e voi sappiate che state rovinando di fatto il vostro hardware. Quindi tirando un po' le somme, io mi auguro di avervi fatto capire una cosa, primo che non è profittevole in nessun senso, senza se e senza ma, quindi al di là del rischio della sicurezza, tutto quello che abbiamo detto finora, non è profittevole fare mining utilizzando CryptoTab, è una perdita, i costi superano i benefici, è profittevole solo se spammate ovunque il vostro referral link e guadagnate grazie ai vostri affiliati, illusi di poter guadagnare qualcosa anche loro, che magari poi vengono coinvolti appunto in questa catena. Seconda cosa, cioè se proprio lo volete fare, io non vi posso impedire di farlo, io cerco di farvi ragionare, se proprio lo volete fare, utilizzate piuttosto NiceHash, così poi vi rendete conto comunque che non è profittevole, ma se magari, non lo so, scroccate l'elettricità di qualcun altro, voi avete un device da buttare via che non vi interessa usurare, piuttosto usate NiceHash, che almeno è legit come servizio e non ci sono tutti questi punti interrogativi. C'è un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire, che questo CryptoTab offre anche un servizio che si chiama CloudBoost, che vi permette, pagando un abbonamento mensile, mi pare, di andare a boostare appunto la vostra potenza di mining, che passa da nulla a nulla per 10, più o meno, e quindi ovviamente non va di certo a coprire il costo del CloudBoost, che mi pare sia 10-15 euro al mese, non lo so, e di fatto vi spilla qualche soldo in più, che male non fa, insomma, direi che non poteva evitare anche di introdurre la componente ponziana del CloudMining. Di fatto, per concludere davvero, non è uno schema Ponzi classico, nel senso che, ok, paga effettivamente quello che dice di pagare, non ti obbliga, quantomeno a parte quest'ultima cosa del CloudBoost, ad acquistare qualcosa con i tuoi soldi, ma di fatto il modello di distribuzione di quello che viene generato si basa effettivamente su qualcosa che viene generato, cioè sull'utilizzo della CPU e GPU dei partecipanti al network. Detto questo, non giustifica minimamente il suo utilizzo per i motivi che abbiamo detto finora. Con questo vi saluto, vi faccio un carissimo saluto, anzi, e ci vediamo domani.